Il Valle Soverato si prepara ad affrontare uno dei due turni casalinghi consecutivi. Domenica si affronta Martignacco, seconda giornata del girone di ritorno, girone est di Serie A2, per dar seguito alla bella vittoria di domenica scorsa a Vallefoglia, coach Boschini. Una squadra che ha confermato di essere in salute anche dopo aver osservato il proprio turno di sosta. Ma allora, concordo abbastanza nel senso che la partita di domenica è stata una partita di carattere soprattutto. Siamo veramente contenti perché il muro di difesa ha funzionato molto bene, le ragazze si sono comportate veramente come meglio di così, era veramente complicato. Perché dall'altra parte comunque c'era una squadra, comunque lo ricordiamo secondo la classifica, quindi non gli ultimi arrivati. Quindi era importante dimostrare anche a Bruno e a tutto lo staff che le ragazze ci sono e l'hanno dimostrato al meglio. Adesso andiamo ad affrontare due partite in casa, una con Martignacco e una con Ravenna. Sono tutte due partite molto complicate, molto complicate e soprattutto delicate in ottica campionato. Nel senso che sarà importante fare dei risultati in tutte e due le gare. Le ragazze secondo me sono pronte, hanno approcciato all'inizio di questa settimana in modo molto dinamico e molto concentrato sugli obiettivi. Quindi speriamo poi di riportare tutto questo in campo domenica. Allora partiamo presentando l'avversario di domenica. Si affronta Martignacco, reduce da una bella vittoria su Macerata, tra l'altro importante anche in ottica classifica. È una squadra che all'andata avete battuto in trasferta. Comunque è una squadra da prendere con le molle perché ormai è tanti anni che disputa questo campionato di a due. E quindi sarà una bella insidia per voi e una prova anche di maturità allo stesso tempo. Assolutamente d'accordo. Nel senso che se noi sottovalutiamo l'avversario, in questo caso Martignacco, facciamo l'errore più grande che potremmo fare. Dobbiamo sempre stare attenti perché è una squadra che comunque non demorde su ogni pallone. È lì, attenta, difende, mura. Bisogna stare molto attenti e giocare con la stessa determinazione, la stessa voglia di difendere, murare, che abbiamo dimostrato a Pesaro. Martignacco diciamo che in questo momento soffre ancora il grave infortunio che sta tenendo fuori una delle loro giocatrici più importanti, i Pascucci. Però sta trovando dei buoni adattamenti e infatti anche il trend positivo delle ultime partite lo sta dimostrando. Quindi bisogna stare attenti, bisogna mai e poi mai in questo campionato, in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, sottovalutare gli avversari. Questo è fuori discussione. Infatti le ragazze, prima dicevo, che avevano approcciato molto bene gli allenamenti in inizio settimana è perché stanno seminando comunque tutti gli input che io e Bruno abbiamo tramite l'analisi video e l'analisi degli scout abbiamo individuato come le chiavi principali del match. Con Capitan Silvia Lotti presentiamo questa sfida del volle soverato con Martignacco domenica. Dicevamo con il coach Boschini per dar seguito alla bella e difficile vittoria che avete colto domenica scorsa in trasferta con Vallefoglia. Un volle soverato che conferma il momento positivo e si prepara ad affrontare al meglio questo girone di ritorno. Sì, domenica abbiamo fatto un'ottima prova, penso. Insomma, il risultato ha parlato, però dobbiamo archiviarla perché ora si riparte, la settimana è ricominciata, ora abbiamo la testa a Martignacco. Stiamo preparando la partita al meglio e vogliamo proseguire su questa onda di entusiasmo e proseguire anche con il nostro gioco, anche perché stiamo migliorando partita dopo partita. Facciamo un passo indietro, analizziamo prima la partita di domenica scorsa. Non era facile per voi, sia per l'importanza dell'avversario, una squadra ostica, tosta, ma anche perché venivate dal vostro turno di riposo, quindi avevate spezzato il ritmo. Invece avete dimostrato, oltre dal punto di vista del risultato, anche dal punto di vista del gioco, di essere sulla strada giusta per trovare quella continuità che vuole e richiama sempre il coach napolitano. Sì, Vallefoglia è un roster di tutto rispetto, comunque è una squadra fatta per stare in alto e lo stanno dimostrando. Noi abbiamo fatto un'ottima prova, come hai detto tu venivamo da una settimana di riposo, non è facile perché comunque quando stacchi la testa puoi ripartire, non è mai semplice. Siamo state bravi perché comunque siamo state concentrate dall'inizio alla fine, è stata una partita veramente dura, lunga, hanno difeso l'impossibile, noi però non abbiamo mai mollato e alla fine poi abbiamo festeggiato. In questo girone di ritorno rispetto al girone d'andata, cosa deve fare in più il Soverato per migliorare il suo cammino? Abbiamo visto che è una squadra dalle grandi potenzialità, che probabilmente nel girone d'andata ha dimostrato forse di avere qualche passo falso di troppo rispetto al potenziale che il roster obiettivamente ha. Allora diciamo che un po' ce l'aspettavamo, nel senso che siamo una squadra giovane, quindi gli alti e bassi fanno parte dell'età. Dobbiamo diminuire gli errori, però stiamo già facendo un ottimo lavoro perché comunque sia contro Cutrofiano sia contro Vallefoglia siamo state molto bravi in questo perché abbiamo limitato molto gli errori del servizio e gli errori in generale. Sono convinta, c'è del potenziale, lo stiamo dimostrando e sono convinta che cresceremo sempre partito dopo partita. Infine un giudizio sul Martignacco, che domenica ha colto un'importante vittoria a Casalinga, una squadra che adesso lotta per la zona salvezza, ma è una squadra che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene in A2. Sì, comunque è una squadra guidata da un coach esperto, è una squadra che tutte le partite sono difficili, è una squadra che comunque nelle ultime partite ha avuto delle belle vittorie, quindi anche loro sono sulla scia dell'entusiasmo, assolutamente da non prendere sotto gamba perché ogni domenica è una sfida, come dico sempre. Una squadra forte, una squadra ostica, però noi siamo pronte per affrontarla.